Ciao a tutti, oggi abbiamo una Nissan Micra 1.2, 80 cavalli, in uno dei colori più belli che sia stato prodotto, il Blue Lotus metallizzato, macchina con una dotazione di serie non indifferente, abbiamo fendinebbia, cerchi in lega, specchi in tinta, maniglia in tinta, metri elettrici, chiusura centralizzata, airbag anche laterali, controllo trazione e antipattinamento, la macchina è un 80 cavalli, sensore pressione gomme, regolazione specchi retrovisori elettrica, 47.000 km, ricordiamo che garantiamo sempre per iscritto i chilometraggi delle nostre macchine, certificati in fattura, sul contratto, sul conformità nella garanzia, la macchina, viva voce Bluetooth e cruise control, viva voce utilizzabile anche sul volante, comandi radio al volante, radio con Bluetooth, climatizzatore, airbag anche laterali, e un 5 porte e 5 posti, spoiler, macchina è un euro 5, finanziabile, con il livello deducibile, ha un sistema molto interessante, dei sedili posteriori, che si possono far scorrere, si possono alzare, tutte e due, separati, sdoppiati, 60 e 40, macchina è sempre venduta con 12 mesi di garanzia su tutto, comunque Nissan ne offre 3 anni, quindi questa auto è in garanzia fino al 2018, ricordiamo che è un giugno 2015, tutte le caratteristiche sono solo nel brusatelli.it.